Hello everybody, benvenuti al primo tutorial mio su uno degli accessori più importanti da uomo, che ci sia la cravatta. Non c'è una cosa che mi dia più fastidio, vedere le cravate fatte male, storte, sproporzionate, che non vanno bene con la camicia, con il collo della camicia, e oggi vi insegno uno dei nodi, si chiama il Windsor, il mio preferito, molto simetrico, e sta bene su tutto, ed è molto classico, così finalmente non dovete più chiedere a chi a casa vostra sa fare il nodo, di farvi il nodo, perché avete un battesimo, un matrimonio, ve lo fate da soli. Siete pronti? No, scusate la camicia che non ho la ferro da stilo. Siete pronti? Faccio anche il conto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, sto guardando là a controllare che sia dritta, no, siamo a dieci, undici, dodici, questa camicia, tredici, quattordici, quindici secondi, la perfezione, guarda che perfezione, questo nodo è perfetto, simmetrico, centrale, proporzionato con la camicia, e con questo vai benissimo.